Buonasera a tutti i telespettatori di Teleromagna da Andrea Raggini. La situazione meteo nella nostra regione ha visto un inizio di dicembre stabile e soleggiato su tutta l'Emilia Romagna, ma poi nelle ultime ore la nullosità è aumentata. Infatti la giornata di oggi, che è aperto il fine settimana, ha visto cieli grigi su quasi tutta la Romagna. Proprio in queste ore, tra la sera e la notte, la situazione tenderà leggermente a peggiorare con l'arrivo di qualche debole pioggia, soprattutto su costa e Romagna. Infatti anche la giornata di domenica vedrà un inizio grigio su buona parte della nostra regione, con deboli rovesci, soprattutto sulla costa e bassa Romagna, che tenderanno a cessare nel corso del pomeriggio. Nel corso della giornata qualche apertura si potrebbe vedere, soprattutto sui settori occidentali dell'Emilia, quindi Piacentino e Parmense. Per quanto riguarda la ventilazione sarà moderata, soprattutto sul mare, che si presenterà mosso. Le temperature minime saranno in aumento, con valori compresi tra 4 e 9 gradi. I valori massimi saranno in calo e compresi tra più 7 e più 11 gradi. Per ora è tutto, buona serata da Andrea Raggini.